Salve a tutti illustri rappresentanti del popolo di YouTube, qui è esse che vi parla. Eccoci giunti al penultimo dei casi clinici di Freud, anche questo tra i più famosi e conosciuti tra tutti, quasi sicuramente il più commentato in assoluto. Mi sto riferendo, come se ce ne fosse bisogno dato che l'avrete già visto dal titolo, al caso di Daniel Paul Schreber, meglio conosciuto come il caso del presidente Schreber. Questo caso, rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto insieme, ma anche rispetto all'ultimo che vedremo dopo di questo, ha delle peculiarità che lo rendono assolutamente unico nel suo genere. Sicuramente le caratteristiche uniche che possiede sono due. La prima è che Freud prima d'ora non aveva mai portato un caso di psicosi. Sì, mi direte che l'uomo dei lupi, come avete appreso dal suo video, fosse anch'esso psicotico. È vero, ma Freud, almeno nel resoconto che ci ha lasciato, trattò Pankeyev come fosse un neurotico. Dunque non è di psicosi che ci parla il nostro Sigmund in quel caso. La seconda è il metodo utilizzato per parlare di questo caso. Infatti Freud non incontrò mai Daniel Paul Schreber. Ancora ancora il piccolo Hans lo incontrò un paio di volte. Schreber no, si tratta in tutto e per tutto di una lettura in chiave psicoanalitica dell'autobiografia clinica, per così dire, che il presidente Schreber scrisse e pubblicò nel 1903 dal titolo, anch'esso celeberrimo, Memorie di un malato di nervi. Al proposito, scrive Freud nella premessa al caso. L'indagine psicoanalitica della paranoia sarebbe assolutamente impossibile se i malati non possedessero la prerogativa di tradire, sia pure in forma deformata, proprio ciò che gli altri neurotici tengono celato come segreto. Poiché i paranoici non possono essere indotti forzatamente a superare le loro resistenze interne e comunque dicono solo quel che hanno voglia di dire, proprio per questa malattia è possibile supplire alla conoscenza personale del malato con una relazione scritta o con un caso clinico stampato. Ritengo perciò che non sia del tutto arbitrario basare un'interpretazione psicoanalitica sulla storia della malattia di un paranoico che non ho mai conosciuto, ma che ha descritto egli stesso il proprio caso clinico e l'ha reso pubblico attraverso la stampa. In effetti, qui Freud ha proprio ragione. Gli psicotici, soprattutto i paranoici, sono davvero molto bravi a mettere nero su bianco ciò che passa loro per la testa. Io stesso ho potuto provare direttamente questo con la tesi di triennale incentrata sull'autobiografia di Alberto Olivo, su cui vi ho già portato un video. Lo fanno anche fin troppo bene. Memoria di un malato di nervi risulta essere un testo davvero, davvero, noioso per la dovizia di Schreber nel descrivere tutti i suoi stati mentali, tutte le sue allucinazioni, tutti i suoi deliri e così via. E Schreber stesso a scriverlo è per la scienza, per l'interesse scientifico che produrrà il suo libro che l'ha scritto, ma non solo, anche per la conoscenza di verità religiose. L'autobiografia stessa è un fenomeno psicotico di per sé in piena regola, come lo è anche l'autobiografia di Olivo e di altri psicotici che si sono cimentati nella messa nero su bianco della loro vita. Ma, col nostro solito procedere con ordine, veniamo dunque alla storia della malattia del presidente Schreber, per vedere poi insieme che lettura ne ha dato il nostro Sigmund. Fondamentalmente, la malattia di Schreber può essere suddivisa storicamente in due tempi. Infatti, in un periodo che andò dal 1884 al 1885, fu curato per sei mesi nella clinica del dottor Fletchzig, per un, così venne definito, grave attacco di ipocondria, che si risolse, sempre così scrive Schreber, senza alcun incidente che sfiorasse la sfera del sovrasensibile. Abbiamo appreso inoltre, scrive Freud, che il dottor Schreber all'epoca della sua ipocondria, la mette anche Freud, tra virgolette, era già sposato da tempo. Egli scrive infatti, forse ancor più viva fu la gratitudine di mia moglie, che nel professor Fletchzig venerava colui il quale le aveva ridonato il marito. E per questa ragione tenne per anni il suo ritratto sul tavolo. E subito oltre. Dopo la guarigione della mia prima malattia, ho passato con mia moglie otto anni nell'insieme assai felici, ricchi anche di onori esterni e turbati talora solo dalla ripetuta delusione della nostra speranza di avere bambini. Insomma, tutto sommato, Schreber è un uomo rispettabile e in carriera, perfettamente integrato socialmente. Non pensiate che gli psicotici siano tutti dei dissociati, malintegrati socialmente. Tutt'altro uno psicotico compensato, portato nel contesto di oggi soprattutto, cento anni dopo il caso di Schreber, può essere molto più integrato socialmente di un neurotico grave. Per Schreber fu effettivamente così tant'è che ve l'ho già chiamato presidente, in quanto nel giugno del 1893 gli venne annunciato che di lì a poco sarebbe diventato presidente della corte d'appello di Dresda, cosa che avvenne l'1 ottobre sempre del 1893. Perché questo sia importante e presto detto, in quanto proprio tra quel giugno e quell'ottobre capitò a Schreber di sognare più volte che la sua passata malattia era tornata e perciò si rattristava parecchio, salvo poi rallegrarsi al risveglio capendo che si era trattato di un sogno. Poi abbiamo il sogno più importante in assoluto che fece in questo periodo. Inoltre, scrive Freud, una volta nelle prime ore del mattino, in uno stato tra il sonno e la veglia, gli si affacciò la rappresentazione che dovesse essere bello essere una donna che soggiace alla copula, idea che in stato di piena coscienza egli avrebbe respinto con la più grande indignazione. Il secondo tempo, per così dire, della malattia si presentò proprio alla fine di ottobre dello stesso anno, un mese dopo l'assunzione della carica di presidente. Inizialmente si manifestò con una forte insonnia che lo costrinse a tornare nella clinica di Fletchzig, dove però continuò a peggiorare. Così è presentata la fenomenologia della malattia nella perizia riportata anche da Freud. All'inizio di tale soggiorno, si intende nella clinica di Fletchzig, egli espresse più volte idee ipocondriache. Si lamentava di soffrire di rammollimento cerebrale, di dover presto morire, eccetera. Ma nel quadro clinico cominciarono già ad affiorare idee di persecuzione derivate da allucinazioni che all'inizio parevano ancora sporadiche, mentre nello stesso tempo cominciava a manifestarsi una notevole iperestesia e grande sensibilità alla luce e rumore. In seguito le allucinazioni visive e acustiche divennero più frequenti e, insieme ai disturbi sensori comuni, finirono per dominare la totalità delle sensazioni e riflessioni. Egli sosteneva di essere morto e in parte putrefatto, malato di peste, oggi diremmo sindrome di Cotard. Vaneggiava che il suo corpo fosse oggetto di orribili manipolazioni di ogni genere e, come ancora oggi afferma egli stesso, subiva cose più terrificanti di quel che si possa immaginare. E tutto ciò per una causa sacra. Le suggestioni morbose assorbivano a tal punto il malato che egli se ne stava per ore e ore del tutto immobile, stupor allucinatorio, inaccessibile a qualunque altra impressione. E d'altra parte lo tormentavano a tal punto che invocava la morte, sicché egli cercò ripetutamente di annegarsi nel bagno ed esigeva il cianuro destinatogli. Le idee deliranti assunsero gradualmente un carattere mistico e religioso. Egli comunicava direttamente con Dio, era in balia dei diavoli, vedeva apparizioni miracolose, udiva musica sacra e giunse addirittura a credere di vivere in un altro mondo. Il persecutore, inizialmente, nei deliri di Schreber era il dottor Fletchzig, chiamato assassino di anime o piccolo Fletchzig. Dunque, nel giro di un anno, la psicosi si assestò su di un quadro di tipo paranoico, anche perché, come scritto in un'altra perizia redatta dal dottor Weber nel 1899, Schreber, anche nel pieno della psicosi, al di là dei fenomeni psicomotori, non appariva confuso o inibito. Anzi, la sua intelligenza rimaneva intatta, così come la sua eccellente memoria. Schreber stesso, ad un certo punto, si ritenne capace di vivere autonomamente, malgrado a ciò si opponesse il dottor Weber. In proposito, scrive Freud, in quell'epoca, il dottor Schreber intervenne persino con competenza e buonsenso in una questione patrimoniale alla quale era interessata tutta la sua famiglia. Nei reiterati ricorsi all'autorità giudiziaria con i quali lottava per riacquistare la libertà, il dottor Schreber non sconfessò mai le proprie idee deliranti, né fece mistero del progetto di dare alle stampe le memorie. Poco più avanti, l'acutezza del suo ingegno e la logica stringente di cui diede prova, pur essendo un paranoico conclamato, gli ottennero il successo. Infatti, nel 1902 l'interdizione dai diritti civili fu revocata e l'anno seguente le memorie di un malato di nervi vennero pubblicate in volume, benché censurate e purgate di alcuni passi di notevole rilievo. Tant'è, piccola curiosità, nella sentenza che rese Schreber un uomo libero è simpatico il contrasto con il sistema delirante di Schreber stesso, per cui ritiene di essere chiamato a redimere il mondo, a patto che egli venga trasformato da uomo in donna, inutile dire che le terapie affermative di genere, i medici e gli psicologi di oggi non avrebbero perso tempo ad operarlo e ad assottoporlo a terapie ormonali, ma battuta parte sul modernismo, questo aspetto del suo delirio arriveremo a breve approfondirlo. Schreber deve diventare donna perché così è scritto, questo è l'ordine del mondo a cui non può sottrarsi, per quanto avrebbe preferito rimanere uomo è un ordine superiore ad ordinarglielo, da qui la questione dei raggi divini, l'essere la donna di Dio e così via. Ma procediamo come sempre con ordine. Prima di elencare quelli che sono i punti essenziali al fine di comprendere con la lente della psicoanalisi deliri di Schreber, Freud pone una linea di demarcazione ben precisa tra il metodo psicoanalitico e la fenomenologia psichiatrica. L'interesse dello psichiatra di professione, scrive Freud, per formazioni deliranti di tal genere, si esaurisce comunemente con l'accertamento di quali siano i prodotti del delirio e con la valutazione dei loro effetti sul comportamento generale del malato. Ma lo stupore nel suo caso non prelude alla comprensione. Lo psicoanalista fa derivare invece dalla propria conoscenza delle psico-nevrosi l'ipotesi che anche formazioni mentali tanto inconsuete e così lontane dal nostro comune modo di pensare traggono origine dai più comuni e comprensibili impulsi della vita psichica e la sua aspirazione è di imparare a conoscere i motivi e i processi di questa trasformazione. Con questo intento egli si accingerà volentieri ad approfondire sia la storia evolutiva sia le singole caratteristiche del delirio. Quindi Freud prosegue col mostrare quelli che sono i punti principali, quelli più salienti, che ci possono aprire la strada alla comprensione di questo caso di psicosi paranoica. Fondamentalmente sono due e sono proprio le ultime peculiarità di cui vi ho appena parlato. La missione di Redentore imposta a Schreber con la sua trasformazione in donna e l'atteggiamento di Schreber nei confronti di Dio. La prima è una fantasia delirante piuttosto conosciuta anche dai non addetti alla psicoanalisi, un delirio di tipo messianico per cui lo psicotico crede di dover redimere e salvare il mondo e l'umanità. Ciò che lo rende poco comune è che ciò debba avvenire con un cambio di sesso e per di più a cui Schreber non vorrebbe sottoporsi. Ciò che compie qui Freud contro ogni senso comune ha dello straordinario in quanto saremmo propensi a pensare che il contenuto più importante per spiegare questo delirio sia la redenzione del mondo, quando invece è il mutamento di sesso ad essere il pilastro fondante di questo delirio. L'idea di essere trasformato in donna infatti, ovvero evirato, ci tiene a sottolineare Freud ovviamente, era stato il delirio primario su cui solo dopo si è costruito quello della redenzione del mondo. Scrive Freud Non v'è dubbio inoltre che in principio la trasformazione doveva compiersi al fine di un abuso sessuale e non in funzione di finalità più elevate. In altri termini un delirio di persecuzione sessuale si è successivamente trasformato nel paziente in megalomania religiosa. La parte di persecutore fu dapprima assegnata al medico curante professor Fletchzig. In seguito Dio stesso prese il suo posto. Infatti, come descritto da Schreber, sarebbe Dio a commettere nei suoi confronti tentativi di un assassinio dell'anima, ovvero di evirarlo inizialmente per scopi contro l'ordine del mondo. Successivamente la cosa si inverte e Dio lo vorrebbe evirare proprio ai fini dell'ordine del mondo e porre fine così al conflitto. Certi raggi divini, scrive Schreber, credevano non di rado fosse loro permesso di ingiuriarmi, chiamandomi Miss Schreber, con riguardo alla presunta imminente evirazione. Questi raggi divini non sono altro che le voci, le allucinazioni uditive di Schreber. A Freud dunque non sfugge che la trasformazione in donna è un punto saliente, è proprio il nucleo originario del sistema delirante di Schreber che era già comparso in tempi non sospetti proprio in quella fantasia sopravvenuta tra il sonno e la veglia, nella fase premorbosa secondo cui sarebbe stato bello essere una donna che soggiace alla copula, quando ancora Schreber non era divenuto presidente alla corte di Dresda. Inoltre, sempre Schreber, ammette anche di aver compiuto atti di travestitismo solo quando era solo. Nel luglio del 1901, in un momento in cui riacquista un po' di stabilità. Il secondo punto di importanza capitale del sistema delirante di Schreber, come vi ho già detto, è l'atteggiamento del presidente Schreber nei confronti di Dio, che Freud stesso definisce come parecchio singolare e pieno di contraddizioni. Per comprendere questo sistema teologico delirante bisogna capire cosa Schreber intenda per nervi, stato di beatitudine, gerarchia celeste e per proprietà di Dio. Partiamo ancora una volta con ordine, perché se no non se ne esce più. Innanzitutto, secondo il sistema delirante di Schreber, l'anima umana sarebbe contenuta nei nervi del corpo. Una parte di essi sarebbe adatta solo alla percezione. Altri, chiamati i nervi dell'intelletto, assolverebbero invece a tutto ciò che concerne la psiche. Per Schreber dunque, ogni nervo dell'intelletto da solo rappresenterebbe l'intera individualità spirituale dell'uomo, ed in base al numero di quanti di questi nervi sarebbero presenti, essi influenzerebbero solo sul tempo durante il quale i ricordi possono essere fissati. Dio dunque, secondo tutta questa costruzione, sarebbe solo nervo e niente corpo. I nervi di Dio però non sarebbero in numero limitato come per gli esseri umani, ma sarebbero infiniti e presenterebbero tutte le qualità dei nervi umani, ma su una scala infinitamente più vasta. In riferimento alla loro capacità di creare, sono chiamati da Schreber col termine che abbiamo appunto già incontrato, ovvero raggi. Dopo la creazione dunque, secondo questa mitologia delirante, Dio si sarebbe ritirato ad una distanza immane, abbandonando il mondo alle sue leggi, limitandosi a portare fino a sé le anime dei defunti in casi solo estremamente rari ed eccezionali. Infatti, alla morte, i nervi di un uomo sarebbero sottoposti ad un processo di purificazione per venire ricongiunti a Dio, quali vestiboli del cielo. Le anime così depurate godrebbero dunque della beatitudine consistente nella fusione con altre anime in unità superiori. Roba a cui Neon Genesis Evangelion mi sembra difficile non si sia ispirato. Al di sopra di questi vestiboli del cielo, quindi, starebbe Dio, che Schreber distingue in un Dio inferiore ed in uno superiore, senza però darci una precisa spiegazione del perché di questa bipartizione, se non che il Dio inferiore sarebbe attratto verso i popoli di razza bruna, come i Semiti, mentre il superiore verso quelli di razza bionda, gli ariani. Il perché è un mistero irrisolvibile all'uomo e che saprebbe solo Dio. L'unica cosa che ci dice Schreber in merito è che questi Dio superiore e inferiore, nonostante l'unità onnipotente di Dio, andrebbero considerati come due entità distinte che, nelle fasi acute della sua malattia, agirono effettivamente ai suoi danni in modi completamente diversi. La cosa interessante in tutto ciò è che, prima di ammalarsi, Schreber non era affatto religioso. Fatto sta che questi raggi divini lo perseguitarono in modi, appunto, assurdi, del tipo che, quando doveva andare in bagno, i raggi facevano in modo che lo trovasse occupato, oppure lo prendevano in giro. Non vi è alcuna prospettiva di fornire una giusta spiegazione del caso Schreber, scrive Freud, se non si tiene in conto di queste peculiarità della sua concezione di Dio, di questo ibrido di venerazione e di ribellione proprio dell'atteggiamento del paziente nei suoi confronti. Infine, la beatitudine per Schreber sarebbe uno stato di godimento perenne legato alla contemplazione di Dio e si suddividerebbe in maschile e femminile. Quella femminile consisterebbe in un sentimento ininterrotto di volutà. Inutile dire che Freud fu attirato particolarmente da questa strana sessualizzazione dello stato di beatitudine, autorizzandolo ha ragione a rimarcare che le psicopatologie hanno natura sessuale, molto banalmente perché la pulsione è perversa polimorfa di per sé. Altra cosa curiosa è che Schreber, prima di ammalarsi, infatti condusse una vita completamente austera. Il mutamento prodotto in Schreber della malattia, scrive sempre Freud, poteva alla stregua del duplice orientamento del suo delirio così riepilogarsi. Egli era stato un tempo incline all'ascesi in campo sessuale e uno scettico riguardo Dio. Col procedere della malattia era divenuto credente in Dio e coltivava la volutà con fervore. Però, come la sua riacquistata fede in Dio era particolare, così pure il godimento sessuale che si era riconquistato presentava un carattere del tutto insolito. Non si trattava più di una libertà sessuale maschile, bensì di sentimenti sessuali femminili, poiché egli di fronte a Dio assumeva un atteggiamento femminile e sentiva di essere la sua donna. Infatti Schreber riteneva di aver disseminati nel corpo questi nervi di volutà, che addirittura li si poteva sentire sotto pelle ovunque nel suo corpo, come fili o corde. Chi è vecchio come me ricorderà la cosiddetta sindrome di Morgellons in una delle puntate di quella dispensa di trash e fake news di mistero. Insomma, come detto da Freud, gli elementi principali del delirio di Schreber sono senza dubbio l'essere trasformato in donna ed il suo rapporto privilegiato con Dio, collegati tra loro dall'atteggiamento femminile nei confronti di Dio stesso. Dopo questa sicuramente complessa, anche se breve descrizione, dei deliri paranoici del presidente Schreber, veniamo all'interpretazione che ci fornisce Freud di essi. Innanzitutto Freud mette le mani avanti a causa della censura cui furono sottoposte le memorie di un malato di nervi, in quanto, come scrive, hanno avuto comunque l'effetto di sottrarre alla nostra conoscenza una parte notevole del materiale e probabilmente la più significativa per l'intelligenza del caso. Ma come Freud, anche noi non perdiamoci d'animo e continuiamo a seguirlo nella sua interpretazione. Sicuramente una figura da cui partire è quella del medico curante, del dottor Fletchzig. Nelle prime fasi della malattia, infatti, il persecutore non è Dio, ma il dottor Fletchzig, che veniva chiamato appunto assassino dell'anima. Con lo sviluppo della malattia, abbiamo pian piano un progressivo scambio e sovrapposizione tra Fletchzig e Dio. Infatti, il dottor Fletchzig, dall'essere l'unico persecutore, divenne colui che istigava Dio a perseguitare Schreber, poi rimase a perseguitarlo solamente Dio. Commenta Freud non senza ironia. Mentre Dio iniziava ad apprezzare il malato, tra le anime che si erano nel frattempo fastidiosamente moltiplicate, ebbe luogo una razzia, in conseguenza della quale l'anima di Fletchzig rimase presente soltanto in una o due figure, e quella di Von V, l'infermiere capo, in un'unica figura. Quest'ultima ben presto scomparve del tutto. Le parti dell'anima di Fletchzig, lentamente svuotate della loro intelligenza e potenza, vennero invece denominate Fletchzig posteriore e partito delle bene. In pratica, ciò che per slittamento metonimico diventò Dio inferiore e Dio superiore. Quindi, qui Freud rintraccia quel meccanismo fondamentale della psicosi paranoica, e che verrà approfondito su tutti da Melanie Klein e da Jacques Lacan, che è appunto quello della proiezione. Fletchzig era una figura importante per Schreber, in quanto medico che l'aveva guarito da quella ipocondria, che adesso possiamo ben mettere tra virgolette. Quindi, dice Freud, l'importanza affettiva è proiettata al di fuori come potenza esterna, mentre l'accento sentimentale si tramuta nel suo contrario. Colui che ora è odiato e temuto come persecutore, era un tempo oggetto d'amore e di venerazione. La persecuzione istituita dal delirio serve soprattutto a giustificare il mutamento avvenuto nell'atteggiamento sentimentale del paziente. E poco più avanti, è probabile che si fosse serbato in lui, al momento in cui sognava che la prima malattia tornasse, dal precedente stato morboso, un tenero attaccamento per il medico che ora, per motivi sconosciuti, si è intensificato fino a raggiungere le caratteristiche di un'inclinazione erotica. E qui Freud inizia a delineare la questione dell'omosessualità all'origine della paranoia, omosessualità che, vi anticipo, non va intesa come credete di intendere, e dell'erotomania. Infatti, ancora più avanti, la causa determinante di questa malattia fu dunque un assalto di libido omosessuale che Freud mette in corsivo, il cui oggetto in origine fu, con ogni probabilità, il dottor Flechzig, e che si sposterà sull'essere la donna di Dio, che prende il posto di Flechzig. Quindi, la famosa citazione di Freud, la paranoia scompone, ciò che lacanianamente intendiamo per metonimia, infatti, aggiungerei, scompone e sposta, laddove l'isteria condensa, ovvero la metafora. Difatti Freud specifica, o meglio, la paranoia risolve di nuovo nei loro elementi le condensazioni e le identificazioni avvenute nella fantasia inconscia. Cos'è la metonimia se non la scomposizione di una metafora? Seguendo questa logica, Freud risale da Flechzig indietro come un salmone che risale la corrente, arrivando al padre ed al fratello di Schreber, che, arrivati a questo punto, i paragoni con Lacan si sprecano, sono gli altri due nodi trifoglio che compongono il nodo Borromeo di tre nodi trifoglio più uno della paranoia di Schreber quando ancora non era scatenata. Infatti, scrive Freud, se il persecutore Flechzig era a suo tempo una persona amata, allora anche la figura di Dio non può che essere la ricomparsa di qualche altra persona ugualmente amata, ma probabilmente di importanza maggiore. Se procediamo, come ci sembra giusto da questo corso di pensieri, dovremmo ammettere che quest'altra persona non può essere altri che il padre di Schreber e ciò rende ancora più evidente che a Flechzig va assegnato il ruolo del fratello, presumibilmente maggiore di lui. Il fratello di Schreber era effettivamente più grande di tre anni. Da averci azzeccato, Freud venne a saperlo solo dopo attraverso il dottor Stegman. Non so se riesco a farvi percepire la differenza che c'è tra questo, che è un palese slittamento metonimico del significante, da quella che è una catena significante-nevrotica come quella dell'uomo dei topi, che si sostiene sulla metafora. All'apparenza può sembrare la stessa cosa, ma è la logica sottostante per cui un significante viene messo appresso ad un altro che cambia tutto. Nell'uomo dei topi, infatti, sono più significanti in sequenza. In Schreber è sempre lo stesso significante che si ripete cambiando semplicemente faccia. Non per niente, il padre di Schreber era per così dire un uomo molto particolare. Era un medico e pedagogista, tra molte virgolette, i cui sforzi diretti ad uno sviluppo armonico della gioventù, scrive Freud, al coordinamento dell'educazione familiare con quella scolastica, all'elevazione del livello sanitario dei giovani attraverso la cultura fisica e il lavoro manuale, hanno esercitato un'influenza duratura sui suoi contemporanei. Della sua fama, quale fondatore in Germania della ginnastica terapeutica, testimoniano ancora le numerose edizioni. Vi ricorda forse qualcosa? Questo caso è stato scritto nel 1910. Qualche anno più tardi, i libri del padre di Schreber vennero utilizzati per crescere la gioventù hitleriana. Ovviamente sia Schreber senior che Schreber junior questa cosa non la seppero mai, perché il nostro Schreber morì nel 1911, un anno più tardi questo caso clinico di Freud, mentre il padre nel 1861. Ma comunque, insomma, se i suoi metodi pedagogici piacquero al baffetto, credo che renda particolarmente bene l'idea di come Schreber e suo fratello vennero cresciuti. Un tal padre non era certamente inidoneo a diventare oggetto di trasfigurazione nel tenero, mica tanto, ricordo del figliolo, a cui era stato rapito così precocemente dalla morte. Appunto, mio caro Sigmund, un dio padre persecutore e abusante. Sono dunque queste le conclusioni cui arriva Freud. Se gli uccelli miracolati, i quali come c'è risultato dissimulano delle ragazze, derivano dai vestiboli del cielo, essi gioveranno forse a farci considerare i reami anteriori e i vestiboli del cielo, vestibolo è usato in tedesco anche per indicare in anatomia una parte dei genitali femminili, quali simbolo della femminilità e i reami posteriori quali simbolo della virilità. Non fatevi ingannare dal termine simbolo qui utilizzato da Freud. E se poi fossimo certi, continua sempre Freud, e lo siamo, che il fratello morto era maggiore di Schreber, potremmo a ben diritto individuare nello smembramento di Dio, in un dio inferiore e in un dio superiore, l'espressione di un ricordo del paziente, secondo cui dopo la prematura morte del padre, il fratello maggiore ne prese il posto. Insomma, quello che capiamo qui con le lenti lacaniane è che dallo scatenamento causato palesemente dalla presidenza alla corte d'appello di Dresda, la catena significante salta, collassa su un S1 che non può che ripetersi all'infinito, non c'è S1, S2, S3 e così via, come nell'uomo dei topi. Ci sarebbero ancora un sacco di robe che potremmo comparare tra la lettura lacaniana con ciò che vede Freud, la spinta alla donna, la metafora delirante che serve a mettere una pezza ai fenomeni di frammentazione corporea, e tanto altro che vi tengo volutamente sullo sfondo come fatto con gli altri casi clinici precedenti, per provare a farvi percepire qualcosa che nessun altro prova a fare, perché uno tra i tanti scopi già elencati nei precedenti video di questa serie di video sui casi clinici di Freud è che spero di rendervi il più palesemente possibile che se Freud ci andava a fiuto, a naso, per i casi clinici, Lacan ci andava con una logica molto più stringente, chiara e cristallina. I miei video sui casi clinici di Freud hanno, insomma, lo scopo, forse raggiungibile, di sfatare il fatto che Lacan sia complicato, perché non è lui ad esserlo, è Freud. Lacan è complicato soltanto nella misura in cui lo è Freud, e anzi, quando capirete questo non potrete fare a meno che leggere Freud per poi rivolgervi a Lacan per spiegarvelo, perché come è successo a me con questo e con tutti i casi clinici precedenti, qualche cosa non la capirete sicuramente. In ogni caso ritorneremo in futuro sulla lettura lacaniana di questi casi. Ma chiudiamo questa parentesi e continuiamo. Dopo un pippozzo mentale di Freud di tipo junghiano sul fatto che i raggi rimandano al sole che in tutte le culture è simbolo maschile paterno e bla 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 bla, il sunto di tutto è in questa frase. Proprio la minaccia paterna maggiormente temuta, e cioè quella delle virazioni, ha fornito materia alla fantasia di desiderio avente per oggetto la trasformazione in donna, fantasia inizialmente combattuta ma infine accettata. L'allusione a una colpa, dissimulata attraverso la formazione sostitutiva dell'assassino dell'anima, appare oltremodo trasparente. Passiamo infine a quello che è l'insegnamento generale sulla psicosi paranoica che Freud trae da tutte queste intuizioni. Ci siamo finora occupati del complesso paterno che domina il caso Schreber e della fantasia di desiderio intorno a cui ruota la malattia e più avanti. Tuttavia basta indagare appena un poco più in profondità per rendersi conto che il fattore che ha determinato questi danni di carattere sociale è stato proprio il concorso della componente omosessuale presente nella vita sentimentale del paziente. Con il capitolo 3 di questo caso iniziano i veri problemi di cui vi dicevo perché c'è una confusione enorme nell'esporre degli insegnamenti comunque validissimi se capiti. E quando sono arrivato a questo punto infatti che ho iniziato ad ubriacarmi ed ho deciso di rivolgermi al seminario terzo per capirci qualcosa. Perché fondamentalmente sta roba dell'omosessualità fino a quando non me l'ha spiegata Lacan non l'ho capita. Tant'è che proprio su questa cosa alcuni accusano Freud di omofobia. Qui la lettura lacaniana ve la anticipo perché se partiamo in quarta con Freud vi ubriaco come mi sono ubriacato io. Per omosessualità da qui in avanti ma anche prima nel corso di questo caso ci si riferisce a quello che per Lacan è farsi fallo immaginario del grande altro. Se Dio padre ritira i raggi divini Schreber diventa il Cacon quindi per evitare di esserlo Schreber deve diventare la donna di Dio in modo tale che questi raggi non vengano ritirati ma è una questione appunto tra il fallo immaginario e l'oggetto a piccolo. Infatti Freud scrive poiché noi constatiamo nelle nostre analisi che i paranoici cercano di sottrarsi ad una siffatta sessualizzazione dei loro investimenti pulsionali sociali dunque aggiungo io di fatto è una desessualizzazione dobbiamo supporre che il punto debole della loro evoluzione debba ricercarsi in un segmento dello sviluppo psichico che sta fra lo stadio dell'autoerotismo del narcisismo e dell'omosessualità e che ivi risieda la loro disposizione alla malattia tradotto in soldoni sempre in termini lacaniani si tratta dello stadio dello specchio omosessualità uguale rapporto immaginario. Non per nulla qui Freud pone le basi su cui Lacan poi costruirà l'edificio della teoria sulla psicosi paranoica perché traccia una logica ben precisa sul funzionamento della fascinazione speculare nella paranoia. E' degno di nota il fatto che le principali forme conosciute di paranoia scrive Freud possono tutte essere rappresentate come contraddizioni dell'unica proposizione seguente io un uomo amo lui un uomo sostituite un uomo con me stesso ed avete qui il rapporto immaginario di Lacan a A' e che esse in effetti esauriscono ogni formulazione di questa contraddizione. Infatti ci sono quattro modi in cui questa formula viene contraddetta dal paranoico. Il primo modo è con il delirio di persecuzione io non l'amo io l'odio. Cosicché scrive Freud la proposizione io l'odio si trasforma grazie ad un meccanismo di proiezione appunto speculare nell'altra egli mi odia mi perseguita e ciò mi autorizza ad odiarlo. In tal modo il sentimento inconscio propulsore si presenta come conseguenza di una percezione esterna io non l'amo io l'odio perché egli mi perseguita. Il secondo modo è l'erotomania che parte da non è lui che io amo io amo lei e per il meccanismo della proiezione diventa non mi accorgo che lei mi ama quindi non è lui che io amo io amo lei perché lei mi ama. In questa forma di paranoia scrive Freud la proposizione intermedia io amo lei può perfino divenire cosciente perché la contraddizione tra essa e la proposizione originaria io amo lui non è assoluta né così insopportabile come quella tra odio e amore. È infatti sempre possibile accanto a lui amare lei. Così la proposizione che viene sostituita mediante lei mi ama può tornare a convertirsi nella proposizione della lingua fondamentale io amo lei. Il terzo modo è il delirio di gelosia che Freud divide in due al maschile ed al femminile. Al maschile lo declina come delirio di gelosia dell'alcolizzato probabilmente c'erano molti uomini alcolizzati all'epoca in quanto l'uomo che si rifugierebbe nell'alcol per una delusione amorosa annullando le proprie inibizioni con l'alcol sposterebbe la pulsione sugli altri uomini nella sua compagnia. Ovviamente non sempre con conseguente proposizione non sono io che amo l'uomo e lei che lo ama sospettando così che la donna ami tutti gli uomini che è lui stesso ad amare. La deformazione da proiezione viene qui necessariamente meno scrive sempre Freud perché con lo scambio del soggetto che ama l'intero processo è comunque gettato fuori dall'io. Il secondo tipo femminile è infatti praticamente lo stesso identico ma al contrario non sono io che amo le donne e lui che le ama. Quindi conclude col quarto modo. Si potrebbe dunque credere che una proposizione costituita di tre termini quale io amo lui non potesse essere contraddetta che entra in maniere soltanto. Il delirio di gelosia contraddice il soggetto, il delirio di persecuzione il verbo, l'erotomania l'oggetto. Ma esiste in vero un quarto modo di esprimere la contraddizione e cioè il rifiuto globale della proposizione nel suo insieme io non amo affatto nessuno. Tale proposizione, giacché la propria libido va pure indirizzata in qualche direzione, sembra l'equivalente psicologico della seguente proposizione io amo solo me stesso. Questa forma di contraddizione determinerebbe dunque il delirio di grandezza che noi concepiamo come sopravvalutazione sessuale del proprio io e che possiamo equiparare alla sopravvalutazione dell'oggetto d'amore che ci è ben nota. Quindi conclude il discorso in questa maniera. Nel delirio di persecuzione la deformazione consiste in una trasformazione dell'affetto. Ciò che dovrebbe essere sentito interiormente come amore è percepito come odio proveniente dall'esterno. Si sarebbe tentati di considerare questo singolare fenomeno come il fattore più significativo e comunque assolutamente patognomonico per la paranoia se non ci venisse opportunamente ricordato 1. che la proiezione non ha la stessa funzione in tutte le forme della paranoia. 2. che essa non è una manifestazione esclusiva della paranoia ma compare anche in altre situazioni della vita psichica. Arrivati a questo punto e risolta la questione sull'omosessualità che sarebbe all'origine della paranoia non posso che risolvervi solo superficialmente il secondo punto che è direi quasi più di carattere filologico. Difatti Freud inizia a parlare del ruolo che la rimozione tra virgolette avrebbe nella paranoia ma questo termine è messo tra virgolette anche nel testo poiché è probabile che il termine tedesco utilizzato sia un altro quello che nel seminario terzo verrà tradotto come forclusione o preclusione che sta all'origine della psicosi. Per le opere complete di Freud infatti i curatori si sono ben premurati di non permettere un controllo diretto della correttezza delle traduzioni pubblicando tutto senza il testo tedesco a fronte. Quello che posso dirvi quindi oltre a consigliarvi la lettura del seminario terzo di Lacan è che ad un certo punto Freud giunge ad affermare due concetti fondamentali per la clinica delle psicosi della paranoia e che Lacan riprenderà precise. Il paranoico ricostruisce il mondo non più splendido in verità ma almeno tale da poter di nuovo vivere in esso. Lo ricostruisce col lavoro del suo delirio. La formazione delirante che noi consideriamo il prodotto della malattia costituisce in verità il tentativo di guarigione, la ricostruzione. La seconda invece è probabilmente la citazione più famosa di tutto il caso clinico del presidente Schreber. Non era giusta l'affermazione secondo cui la percezione interamente repressa verrebbe proiettata all'esterno. La verità di cui ora ci rendiamo conto è piuttosto un'altra. Ciò che era stato abolito dentro di noi a noi ritorna dal di fuori. Riprendiamo soltanto la prima delle due proposizioni in quanto l'ultimo passaggio importante del caso dopo un breve riepilogo di tutte le considerazioni sulla paranoia a cui Freud è giunto è a parer mio l'ultima di queste quattro ovvero la considerazione sulla separazione diagnostica tra schizofrenia o demenzia precox e la psicosi paranoica. Infatti Freud capisce che le due psicosi sono imparentate ma che è giusto separarle per alcuni aspetti essenziali. Io penso che Kraepelin abbia avuto perfettamente ragione di separare gran parte della sindrome fino ad allora definita paranoica e di assorbirla con la catatonia ed altre forme morbose in una nuova unità clinica. Benché a dire il vero la denominazione di demenzia precox mi sembri una scelta particolarmente infelice. Anche contro il termine schizofrenia coniato da Bloiler per designare lo stesso gruppo di forme morbose ci sarebbe da obiettare che esso appare accettabile solo se si prescinde dal suo significato letterale. Infatti in barba agli psicologi dell'io ed in barba a Carl Gustav Jung Freud pare aver già capito che anche nella schizofrenia non vi è un vero e proprio deperimento, indebolimento dell'io dello schizofrenico ma che piuttosto vi è un ingigantimento talmente elevato dell'io che letteralmente scoppia in frantumi come un palloncino e che quindi non è adatto alla sola schizofrenia perché effetti di frammentazione li si possono trovare come visto con questo caso anche nella psicosi paranoica che è vista come appunto un tentativo di guarigione dai fenomeni di frammentazione corporea, tentativo di guarigione non presente nella schizofrenia. E con questo è tutto, in descrizione troverete i casi clinici dei Freud e le memorie di un malato di nervi, eccezionalmente anche il seminario terzo di Lacan senza cui non sarei riuscito a raccapezzarmi con questo caso. Se vi è piaciuto il video vi invito dunque a mettere un mi piace, a condividerlo se conoscete qualcuno cui possa interessare e ad iscrivervi se volete continuare a seguire questa ed altre rubriche. Inoltre tra i commenti troverete i link alle pagine Instagram e Facebook del canale. Alla prossima!